buongiorno benvenuti dalla segna stampa di oggi domenica 28 maggio tanti auguri a voi oggi nel senso che tanti auguri nel senso che domenica buona buon fine settimana che cosa è successo sui giornali di oggi intanto fa un caldo pazzesco qua a milano sui giornali di oggi è successo che tutti quanti titolano fallimento g7 quello di taormina poi la domanda che mi pongo è molto semplicemente quando è che un g7 invece non è fallito quando i giornalisti hanno preso le dichiarazioni finali dei sette uomini più potenti della terra e che in maniera totalmente ipocrita hanno detto di essere d'accordo su qualche cosa quindi parto da un dettaglio quello di franco battaglia se volete un colonnino di 40 righe oggi sul giornale il quale ci dice che negli ultimi accordi per esempio sul clima che è considerato invece uno dei fallimenti di questo g7 e c'erano delle cose pomposissime non so 20 20 20 la riduzione entro il 2020 di 20 di riduzione di co2 e di inquinamento e non è avvenuto la riduzione dell'utilizzo dei fossili e non è avvenuto cioè sul clima si sono sempre inventati degli obiettivi che poi sono sempre stati smentiti ma il giorno in cui questi obiettivi venivano annunciati attraverso il g7 con tutti d'accordo tutti puliti tutti che erano arrivati l'acqua di loro aerei privati che inquinano quanto cento aerei normali tutti erano contenti i giornalisti dicevano grande g7 perché questo è il paese per cui oggi io mi trovo nelle come si dice nelle nelle votazioni anche divertente gioco delle votazioni dei singoli leader Trudeau che è un leader che non lo sapete ma ve lo spiego io è molto bravo a fare yoga ed è anche diventato un molto bellissimo uomo ed è diventato con delle scarpe orrende e che è diventato presidente del canada beh Trudeau prende il voto superiore a tutti quanti sul Corriere della Sera non sulla gazzettina di della sgurgola del minnesota prende otto sapete perché perché simpatico perché dopo la cena al timeo con mattarella è andato a mangiarsi l'impepata le cozze allora se questo è il criterio con cui possono stare si danno i voti ai leader politici mondiali perché simpatico e si l'impepata a taormina beh allora capisco perché questo vertice è fallito è fallito perché un solo uomo contro sei uomini ha detto non mi prendete per i fondelli su clima che è una cosa che ha detto in campagna elettorale e io mi chiedo ma quando un governante che viene eletto dalla maggioranza dei suoi cittadini rispetta nel primo viaggio elettorale quello che lui ha promesso i cittadini è un uomo che fallisce o che rispetta il suo mandato elettorale ve lo chiedo l'ha detto in tutti i modi che lui questa roba del clima la considera una minchiata come è una minchiata ovviamente siamo tutti appassionati di clima tutti vogliamo un mondo migliore con un ambiente migliore forse le soluzioni che questi sette si danno in realtà sono un po ridicole un'altra piccola cosa ma la legge solo dalle 24 ore fa bene il giornale confindusse a mettere in evidenza perché riguarda le imprese sapete che cosa si sono pensati i sette si sono pensati secondo me non in maniera operativa grazie a trump che viene considerato l'uomo che ha fatto fallire il vertice mentre l'uomo che ha reso meno ipocrita questo vertice e nuove sanzioni alla russia per la questione ucraina non che la questione ucraina sia una cosa di poco conto e non che la russia non abbia esagerato in ucraina ma secondo voi le sanzioni economiche quelle che stanno distruggendo le imprese italiane che esportano in russia sono una buona idea oggi soltanto il sole 24 ore si accorge bene in prima pagina che ci sono le sanzioni economiche vogliono riaspire le sanzioni economiche nei confronti della russia nei confronti della russia è una cosa pazzesca è una roba che noi dovremmo fare le barricate per quanto ci ci riguarda qualcuno si può chiedere in questa settimana in cui abbiamo impedito gli sbarchi in sicilia perché si è parlato di immigrazione si è fatto un documento generico ma nessuno vuole vederli gli immigrati cioè i sette più importanti del mondo gli immigrati non li vogliono vedere tra le balle nel frattempo oggi su repubblica secondo una denuncia di medici senza frontiere 1500 clandestini immigrati sono stati beccati in un barcone non sanno dove spedirli perché in sicilia non possono andare arriveranno a napoli perché lì non ci sono i sette più importanti della terra dice giustamente in questo forse c'è ragione sallusti che guarda sempre il punto di vista diciamo laterale e anche se volete dell'opposizione dice l'ultimo forse vertice che ha avuto un senso è stato quello di pratica di mare nel 2002 di berlusconi in cui non è questione di berlusconi non berlusconi ma lì arrivò putin e putin fu rimesso con bush con quella famosa stretta di mano e il novero dei paesi che dovevano combattere il terrorismo ecco quello ha un significato queste minchiate che facciamo a tormina con trudò che prende otto semplicemente perché si prende l'impepata di cozze mi sembra che siano più che altro delle perdite tempo si possono fare giusto che si vedano i grandi del mondo per carità però insomma bisogna capire che cosa voglia dire non un fallimento di questi vertici cosa succede invece nel frattempo mentre gentiloni era lì che faceva il vertigo g7 a roma gli sparavano addosso gli sparavano addosso per una cosa elementare perché forse italia e lega nord votano in commissione neanche in parlamento una possibilità di rimettere in circolo alcuni lavori temporanei che impropriamente vengono chiamati voucher non sono voucher è un casino fare questi questi benedetti perché prima si compravano le poste registrare all'inps non vale per le imprese ma per quelle che hanno meno di cinque dipendenti per le famiglie insomma abbiamo ucciso un modo di lavoro temporaneo e flessibile per farne uno che sarà complicatissimo e che incentiverà il nero perché tra la difficoltà e il nero la gente farà ovviamente il nero ovviamente per ogni lavoratore non si possono avere più di 5 mila euro di voucher all'anno che non si chiamano voucher anche se i giornali più chiaramente li chiamano così da un singolo datore di lavoro non se ne possono dare più di 2.500 e soprattutto non si possono pagare meno di 36 euro al giorno per singolo lavoro mentre alcune volte ci sono dei lavoretti da 15 20 euro ma insomma chi se ne frega non è questo il tema il tema è che abbiamo distrutto il lavoro flessibile ma la cosa divertente se volete è che la sinistra si è rotta financo su questo genere di lavoro flessibile perché gli orlandiani cioè neanche Cuperlo che fa un'intervista neanche Bersani che era quello delle liberalizzazioni ve lo ricordate si liberalizzava tutto tranne il mondo del lavoro ci ha rotto le balle sulla quando governava e faceva il ministro di fare le liberalizzazioni dai taxi alle farmacie tutto quello che voleva ma il mercato di lavoro non si può liberalizzare chissà perché vabbè insomma tutta la sinistra pd non ci sta a questa a questa roba qui ma non ci sta non per il merito ma perché hanno votato anche forse italia e lega nord momento 5 stelle vota contro l'unica la camusso ne fa un casino pazzesco oggi da segnalare per una volta sapete che io non sono tenere con i sindacati un'intervista della furlan che è la segretaria della cisla che dice sulla stampa una cosa sacro santa dice non riesco a capire perché in un momento in cui abbiamo milioni di disoccupati e disoccupazione giovanile al 40 per cento e problemi sul lavoro che non abbiamo neanche l'idea beh ecco in questo momento stiamo qua a far cadere un governo e occuparci di una manovra che riguarda lo 0,1 per cento del mondo del lavoro cioè questi voucher e dice la furlana è una roba da matti o direi ideologica che serve la cgl british nel casino più totale 150 voli cancellati 140 in ritardo oggi il times fa come fanno i giornali inglesi cioè neanche tabloide giornali diciamo daily mail che io adoro oggi non c'è cosa fa racconta le storie di quelli che hanno vissuto ieri una giornata heatrow o getwick dove non sono partiti voli di british airways e sapete perché non sono partiti perché non è andato in tilt il sistema informatico e su questo si potrebbe parlare per ore ore la cosa che mi diverte è il tic dei giornali italiani ma non solo dei giornali italiani anche soprattutto quelli stranieri che dice è avvenuta sei volte in un anno questo questo mai incasinata come ieri perché poi lunedì cioè domani è bank holiday in inghilterra quindi una specie di enorme ponte quindi c'era tutto il mondo che viaggiava quando vedete il times la signora che aveva messo i risparmi per volare la famiglia che piange il bambino che per la prima volta il fidanzato che c'era la fidanzata gravissima c'è tutti i casi più tragici il times ha messo nell'inizio del suo pezzo per dare il senso del casino che ha creato ieri questo black out della british ma la cosa che mi diverte che tutti dicono la british salta perché ci sono le low cost e quindi per fare concorrenza le low cost ha spostato il suo sistema informatico in india e questo ha creato il casino allora io mi chiedo secondo voi è il fatto che british abbia spostato in india e abbia fatto le concorrenze all'olio cost o il fatto che ci sono dei manager deficienti cretini incapaci peraltro molto simili a quelli che hanno appena cambiato il sistema informatico dell'italia che hanno sbagliato cosa c'entra cioè noi andiamo qua sempre a dire che il rig la riduzione dei costi necessariamente portato al black out è la classica posizione sindacale che i giornalisti sono tutti quanti bevuti ma secondo voi easy jet e come si chiama ryanair che avranno certamente anche loro dei costi basti vi è mai capitato che non gli funzionasse il sistema informatico forse qualche volta sì ma non nelle dimensioni di british airways questo disastro di british airways non deriva dal taglio dei costi quello è il dito deriva dall'incapacità dei manager di tagliarli i costi perché se io taglio i costi in modo tale che c'è un black out per cui mi costa talmente tanti soldi oggi ripagare quelli che non hanno volato tu sei un cretino quel manager deve essere fucilato da un punto di vista aziendale non c'entra il taglio dei costi c'entra l'incapacità strategica di poter svolgere bene il proprio mestiere è talmente semplice guardiamo il dito e non l'una il tema non è quindi che sono stati spostati in india ma come sono stati spostati come sono stati ridotti questi costi talmente facile da capire invece abbiamo sempre pregiudizio ideologico si tagliano i costi si sposta in india la globalizzazione i cattivoni eccetera no i cattivoni non è il taglio dei costi i cattivoni sono quegli incredibili manager strapagati non in maniera ideologica che non sanno fare il loro mestiere prendi e si licenziano i manager perché quello che è avvenuto ieri è uno sputtanamento per british airways per i prossimi dieci anni perché voi mi dovete spiegare pago su british airways per mettere il bagaglio pago se voglio il caffè peraltro devo aspettare ore ore al termine 5 di titolo ma perché devo prendere british airways e non easyjet questo vale per british airways e vale anche per alitalia provate un po voi a vedere il sito dell'italia è l'unico sito in cui voi date la vostra freccialata e ancora vi chiede email nome cognome sesso tutto perché quei geni di manager non sono riusciti a dire agli informatici guarda che se ti diamo la freccialata cioè la tua tessera mille miglia tu hai tutti i dati di quel signore e tu ti dirai tutti i digitali questo è il modo con cui ragionano gli informati si dovrebbero far saltare su repubblica oggi foto straordinaria zuckenberg sopra un vecchio trattore in alabama dice voglio conoscere l'america profonda che usa facebook mi è sembrato mussolini il duce che andava a mietere prima oltre che il grano i consensi ma che c'entra zuckenberg sul trattore in alabama a vedere quelli che usano facebook quella si chiama foto opportunity farsi vedere come l'uomo della silicon valley con la felpa sta anche vicino ai contadini americani gli stessi contadini americani che hanno detto a zuckenberg scusate il gesto io voto trump perché voi delle felpe non state creando lavoro in america chiaro questo sta avvenendo per l'uomo più potente del mondo che rischia di diventarlo ancora di più se diventa presidente della repubblica americana il cui percorso mi sembra tracciato basta vedere la foto di oggi su repubblica e ve la guardate oggi ho recensito un libro sul giornale se avete voglia leggetelo si chiama hariri che racconta cosa sarà il futuro delle felpe cosa sarà il futuro delle più tecnologie è una cosa molto interessante dal mio punto di vista parliamo di futuro guardiamo al passato un bambino in italia muore di otite perché è stato curato per tre settimane con omeopatia allora perfetto chi voglia chi vuole curarsi di omeopatia fa bene a farlo però ragazzi morire in italia per omeopatia è una cosa da diciamo è una piccola cronaca da imbecilli così come non vi è vaccinarsi così come vabbè insomma avete ben capito che cosa penso sul sistema elettorale vi consiglio oggi dalimonte che ci spiega una cosa molto semplice e molto banale come sa fare sempre lui nel senso molto banale molto semplice chi parla semplice per me vuol dire che si fa capire sul sole 24 ore oggi dalimonte ci dice con nuovo sistema elettorale tedesca se venisse mantenuto il 5 per cento come soglia solo quattro partiti arriverebbero in parlamento dice sarà un sistema proporzionale ma la sua vocazione sarà molto maggioritaria anche se sarà difficile fare il governo se si dovesse mantenere il 5 per cento come soglia di sbarramento ci gioco non vi dico che cosa che non verrà mai mantenuta la soglia al 5 per cento perché questa legge elettorale col 5 per cento sarebbe una semplificazione del panorama parlamentare che non esiste dagli anni 40 sono abbastanza certo che non avverrà l'ultima questione riguarda roberta de monticelli mi sono sempre chiesto chi fosse questa filosofa saccente che piace molto alla sinistra che si mangia il caviale e si beve il krug beh adesso l'ho capito oltre ad essere questa saccente come spesso avviene con la spinelli con tutte queste signore diciamo dei salotti buoni è figlia di un giornalista è figlia di una persona che ha avuto un grande ruolo nel passato me lo ricorda oggi vittorio feltri quando sfotte la de monticelli e fa bene a farlo perché la de monticelli ha criticato un programma radio in cui veniva citato un pezzo di farina sul libero dicendo farina non ha il diritto di poter scrivere e né di essere citato questa è la filosofa de monticelli che dice che un giornalista come farina non ha diritto di essere non solo di scrivere ma anche di essere citato una cosa allucinante gli ricorda feltri che è stato sì radiato dall'ordine a parte il fatto che io dubito che se uno è radiato dall'ordine non possa scrivere perché è una libertà molto più importante di quella che partecipare un ordine quella di poter scrivere sui giornali ma dice feltri è stato radiato è stato riammesso all'ordine giornalisti quindi de monticelli ma che stadi ragazzi buona domenica ci vediamo domani ciao